signori buongiorno e buon natale io sono il master cae e sono babbo natale ora sono anni che per un motivo per l'altro finisce sempre che nell'episodio che cade la settimana di natale si vada a parlare qualcosa di sgradevole quindi quest'anno ho deciso di ufficializzare la cosa evidentemente questo è il destino quindi andiamo avanti a parlare di tutto quello che riguarda i png che ruotano attorno al gruppo dei personaggi giocanti ma questa settimana andremo a parlare di uno specifico gruppo ovvero quello degli antagonisti del party probabilmente questo è uno dei gruppi più importanti anche perché saranno uno dei gruppi che interagiranno di più come i giocatori e avranno più influenza sulle loro motivazioni quindi oltre a essere un ottimo argomento per il video di natale è una delle cose cui dobbiamo trattare prima di andare avanti col discorso sui personaggi in generale non perdiamo quindi altro tempo andiamo a vedere il gruppo degli antagonisti come è organizzato perché e come sfruttarlo nelle vostre quest in questo video parleremo degli antagonisti del party in ottica di fazioni su che cosa sia una fazione abbiamo parlato in un video precedente ve lo lascio qua in alto andate a vederlo se non l'avete ancora recuperato perché se no altrimenti alcune cose di quelle diremo questa settimana potrebbero non risultarvi chiarissime ora prima di tutto diamo una definizione importante quando si parla del gruppo degli antagonisti si parla di quella fazione che si opporrà ai giocatori più volte nel corso di una campagna per un lungo periodo di tempo ovviamente ogni singola quest in cui personaggi giocanti prenderanno parte avrà qualche tipo di antagonista che sia un effettivamente png che faccia qualcosa ma potrebbe essere anche un oggetto immaginato o un concetto scorporato nella quest in cui i giocatori devono portare l'oggetto magico in cima alla montagna prima che sorga la tredicesima luna altrimenti si avvererà una profezia e il tempo a essere l'antagonista dei giocatori dato che loro devono arrivare in cima alla montagna prima che un determinato orologio di gioco raggiunga la mezzanotte questo però non vuol dire che il tempo faccia parte di una fazione allo stesso modo il singolo png malvagio che sta facendo qualcosa e i personaggi devono andare ad arrestarlo ammazzarlo catturarlo per concludere la quest non è un membro della fazione e gli antagonisti qui stiamo proprio parlando di un gruppo di png organizzato che abbia una motivazione coerente col fatto di essere in opposizione con la visione del mondo o gli intenti del gruppo dei personaggi giocanti dato che a natale sono tutti più puntigliosi chiariamo una cosa tecnicamente quella che noi abbiamo chiamato la fazione degli antagonisti potrebbe non essere propriamente una fazione di antagonisti all'interno di una storia il protagonista è chi cerca di fare qualcosa e l'antagonista chi cerca di impedirlo quindi se il signore del male vuole conquistare il mondo e i giocatori devono fermarlo all'interno di quella storia il protagonista tecnicamente è il signore del male lo dico per evitare confusione più avanti in questo caso noi definiamo antagonisti in maniera generica chiunque si opponga ai personaggi controllati dai giocatori indipendentemente da quale sia il suo effettivo ruolo all'interno di una storia detto questo cominciamo con una riflessione generale su quella che è la fazione degli antagonisti ora ovviamente questa fazione potrebbe essere organizzata in qualunque modo sia coerente con l'ambientazione in cui questa fazione è inserita e abbia senso per quello che succede in quest ma nella pratica molto spesso gli antagonisti sono organizzati in maniera estremamente gerarchica e piramidale questa convenzione non è qualcosa che esiste solamente nel gioco di ruolo in realtà la si può trovare in qualsiasi forma di fiction dai romanzi ai film telefilm cartoni animati quello e preferite e anche se magari non avete mai consciamente notato la cosa probabilmente inconsciamente sapete già di cosa sto parlando la classica organizzazione la sua protagonista è composta da un gruppo di sgherri che dipende da un qualche tipo di boss che a sua volta dipende da un altro boss più potente qualunque cosa voglia dire potente all'interno di quel tipo di fiction e questo boss avrà a sua volta un altro boss e teoricamente così a salire fino ad arrivare al boss finale capo supremo dell'organizzazione se ci riflettete un attimo probabilmente vi sta venendo in mente qualcosa tra le opere letterarie che preferite in cui l'organizzazione degli antagonisti è esattamente questa i motivi per cui si ricade molto spesso in questo schema sono principalmente due il primo è che rende estremamente facile per i giocatori o comunque per chi fruisce di questo tipo di fiction capire in maniera rapida quali sono i rapporti tra i vari png loro avversari e che molto spesso non avranno modo di introdurre se stessi o dare molti dettagli in scena una volta incontrati i giocatori difficilmente i giocatori avranno così tante possibilità di interagire con il boss finale prima di doverlo incontrare appunto nel finale e anche nel caso dovessero incontrarlo prima probabilmente saranno più impegnati a cercare di ammazzarlo o cercare di non farsi ammazzare da lui che a mettersi ammavimenti a parlare di quali siano le sue motivazioni e la sua visione del mondo se però hanno incontrato tutta una serie di personaggi che dipendono da lui e che quindi si può facilmente assumere che più sia alto di grado il minion più diretta sia la sua conoscenza del boss finale potranno capire tutte le informazioni che gli servono su quali siano le effettive motivazioni del cattivo dal modo in cui questi sottoposti ne parlano o anche nel modo in cui vengono trattati dal cattivo stesso usando queste informazioni i giocatori non avranno bisogno poi di andare a parlare col boss per capire chi è, cosa fa e perché sta facendo quello che sta facendo il secondo motivo è invece quello di semplificare la comprensione da parte dei giocatori sia su quale sia l'effettivo livello di potere l'avversario con cui si stanno scontrando sia quale sia grosso modo la loro progressione lungo la linea narrativa cioè in modo che i giocatori possano capire più o meno a che punto della storia siano quei loro personaggi se i giocatori con le loro indagini riescono a comprendere che l'organizzazione che gli si oppone ha quattro livelli gerarchici, facciamo l'esempio dopo aver sconfitto il secondo boss sapranno di essere più o meno a metà della storia e potranno anche più o meno farsi un'idea di quanto saranno forti i due boss che gli aspettano anche in questo caso cosa voglia dire potente dipende dal tipo di regolamento e tipo di gioco che state applicando in questo momento in un contesto trad basato sui livelli come può essere un D&D potrebbe parlarsi di effettivo potere di combattimento ma potrebbe anche essere il loro potere e influenza politica o comunque il tipo di controllo che possono esercitare sulla trama e fate attenzione anche che questa suddivisione gerarchica è una semplificazione che utilizzate voi come master per organizzare gli incontri e i giocatori per comprendere il flusso narrativo della storia non deve necessariamente essere presente anche all'interno della fiction non necessariamente il boss a comando di un altro boss debba effettivamente essere un qualche tipo di ufficiale o qualche tipo di superiore potrebbe anche essere una cosa puramente occidentale per come viene presentata questi boss tra l'altro non saranno dei personaggi generici saranno approfonditi dovranno avere delle caratteristiche dovranno dare ai giocatori un motivo per avercela con loro e a riguardo ci sono un'enorme quantità di trop a cui fare riferimento in base al tipo di gioco e al tipo di genere ma parla di tutto quello andrebbe veramente ad allungare troppo questo video quindi ne parleremo poi in un video a parte più avanti cominciamo però a vedere uno specifico troppo perché è proprio quello legato all'organizzazione della storia stessa questo è qualcosa che è nato all'interno del mondo del gioco di ruolo ma poi è stato preso e codificato in maniera molto più rigida dall'industria dei videogiochi cioè la distinzione tra minion, mini boss e boss finale o se preferite sgherro, capo e grande capo quando la fazione antagonista viene presentata ai giocatori la prima struttura che sarà evidente è che la fazione è formata da una serie di png minori non particolarmente caratterizzati che saranno appunto i minion o gli sgherri e a comandare e supervisionare gli sgherri ci sarà il boss cioè il primo serio avversario che il gruppo o i giocatori dovrà sconfiggere che sarà invece un personaggio che ha un suo nome probabilmente anche un suo retroscena e o comunque avrà una caratterizzazione che lo renderà un personaggio distinto all'interno dell'ambientazione sarà probabilmente anche chiaro fin da subito che lui non è l'avversario finale ma in realtà è solo un agente di un antagonista ancora più grosso cioè quello che convenzionalmente è il boss finale cioè l'ultimo avversario che dovrà essere sconfitto per superare l'arco narrativo e se lo state chiedendo sì, c'è un parallelismo che ha anche voluto questa è una versione specchiata dell'organizzazione della fazione dei giocatori ne abbiamo parlato in un video un paio di settimane fa dove gli sgherri sono i seguaci i mini boss sono i gregari e poi i boss finali sono gli alleati cioè quelli che lavorano per il party che in realtà sarebbero i signori del male di questo confronto questo schema ovviamente si ripeterà nei vari atti o nei vari archi narrativi della campagna con quello che è il boss finale di un arco che si rivelerà essere in realtà il sottoposto o proprio lo sgherro di un altro boss più grande e così via fino ad arrivare effettivamente all'ultimo boss nel finale della campagna ora fate attenzione non necessariamente l'ultimo boss dovrà essere il capo supremo dell'organizzazione potrebbero esistere livelli gerarchici sopra il suo come potrebbero esistere livelli gerarchici più in basso del primo boss che i giocatori andranno a sconfiggere però se questi non avranno un impatto diretto sulla storia che sta venendo giocata funzionalmente per voi come master non esistono e sono più che altro concetti di flavor e roba che usate per dare profondità al mondo ma non avranno una reale applicazione meccanica in cui lo state facendo volendo fare il classico esempio del fantasy i giocatori dovranno sconfiggere la setta dei cultisti malvagi che vuole risvegliare l'antica divinità del male ora ovviamente il capo supremo di quella setta sarà l'antica divinità del male ma se la campagna finisce con loro che irrompono nella stanza del rituale e uccidono il sommo stregone che è a capo di tutti i cultisti e gli impediscono di evocare il suo dio funzionalmente è quel sommo stregone il boss finale per quanto possa esistere questo dio malvagio e possa anche giurare vendetta nei giocatori ovviamente non sarà qualcosa che avrà direttamente a che fare con la campagna ma il che vada diventerà il primo boss di un eventuale seguito potenzialmente esiste uno specifico tipo di mini boss che prende il nome dell'agente la cui caratteristica è quella di essere particolarmente competente in uno specifico campo dell'organizzazione antagonista normalmente l'agente non è alla guida di sgherri o è circondato da un numero molto limitato di sgherri ma nominalmente più forti del normale ed è pensato per essere particolarmente rognoso per i giocatori l'archetipo dell'agente rappresenta tutti quei png che una volta che gli antagonisti del party si sono resi conto che il party esiste e che gli sta dando filo da torcere chiamano un qualche tipo di specialista per cercare di mettergli bastoni tra le ruote che sia il sicario che viene mandato a ucciderli che sia l'avvocato che viene mandato per cuorerarli dipende molto da quali sono i temi della vostra campagna ma tutti questi png che arrivano ed esistono proprio per dare fastidio al party ricadono sotto l'archetipo dell'agente prima di concludere vorrei essere chiaro su un punto probabilmente durante tutto questo discorso avete dato per scontato che la fazione degli antagonisti rappresenti per qualche motivo il male o comunque ciò che è negativo all'interno del mondo di gioco tecnicamente non è necessariamente così tutti questi archetipi servono semplicemente a presentare uno schema che sia facile da seguire per organizzare il gruppo che si oppone a quello degli avventurieri ma a seconda di quale sarà il gruppo degli avventurieri l'organizzazione che gli si oppone potrebbe avere delle tinte diametralmente diverse se l'archetipo classico del fantasy vede i personaggi giocanti come un gruppo di eroi buoni è molto probabile che i loro antagonisti siano effettivamente i malvagi ma teoricamente un gruppo di personaggi malvagi potrebbe affrontare un'organizzazione estremamente buona che vuole cercare di fermarli o anche togliendo il tutto le questioni morali che hanno senso al fantasy in altri giochi qualunque sia l'intento dei giocatori potrebbe trovare una fazione che ha un intento opposto in Cyberpunk i giocatori sono un gruppo di mercenari che cerca di sottrarsi al controllo della megacorporazione la fazione antagonista sarà appunto la megacorporazione che vuole controllare quei personaggi chiarito questo diciamo quindi che per questo video è tutto ne parleremo poi più nel dettaglio di quali sono questi archetipi in un video successivo come sempre adesso la parola sta a voi iscrivetemi qua sotto quali sono le organizzazioni che voi avete presentato ai vostri giocatori e come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che è avuto a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se non volete perdere le notifiche in descrizione trovate i link ai vari social del canale dove si riunisce la community e io sono il Master Ka e noi ci vediamo nel prossimo video e ancora una volta buon Natale